Luciano, io potrei stare a parlare di te per tutta la mattina e credo che possono essere molto interessanti che sarebbe anche molto interessante però immagino che tu voglia andare invece al dunque della tua presentazione quindi ti cedo con piacere la parola Molte grazie Fabrizio, grazie professor Pilo meno male che hai interrotto adesso stavo diventando arancione, sarai diventato rosso grazie mille per la molto gentile introduzione a RSE e al sottoscritto ne colgo l'occasione anche per ringraziare ovviamente Sardegna Ricerche per questa opportunità che ci permette di mostrare sia le competenze che le attività in corso in un settore così strategico e importante come quello della cyber security nei settori elettrici e energetici condivido la mia presentazione in maniera da poter fare in pochissimo tempo una breve carellata sulle attività in realtà il mio compito è quello vi riuscite a vedere la presentazione? è tutto a posto? sì? ok volevo dire appunto introdurrò molto brevemente RSE e poi semmai la tematica dell'argomento del webinar di oggi per poi lasciare la parola agli esperti tecnici RSE per proprio gli aspetti più importanti legati alla cyber security la prima cosa che mi piace raccontare è che appunto RSE è una società di ricerca pubblica con sede sia a Milano che a Piacenza è una società del gruppo GSE quindi il gestore del sistema energetico siamo una società medio piccola o medio grande dipende dal vostro punto di vista contiamo circa 300 ricercatori e abbiamo una dotazione abbastanza importante di laboratori testbed che ci permettono di fare anche attività sperimentali è importante sottolineare che le nostre attività sono finanziate dal fondo della ricerca di sistema quindi un fondo che viene alimentato dalla bolletta elettrica di ogni persona che ha un'utenza elettrica questi fondi possono accedere gli enti quindi Enea, CNR e RSE e sono fondi che sono destinati a attività di ricerca e sviluppo anche nel medio e nel lungo termine che consentono di continuare a migliorare l'efficienza l'affidabilità e anche la resilienza visto il tema di oggi del sistema elettrico energetico nazionale noi abbiamo diverse potenzialità e questo ci permette anche di supportare come advisor il MISE come primo stakeholder importante ma anche l'autorità di regolazione per l'energia quindi ARERA e quindi questo è un tratto distintivo anche di RSE quindi poter giocare il ruolo di terza parte e quindi assecondare gli interessi di diversi stakeholder mi muoverei oltre dicendo appunto che quello che ci caratterizza è ovviamente un aspetto legato molto alle tecnologie ma con un approccio di sistema e quindi tenendo conto che queste tecnologie devono lavorare in maniera sinergica per favorire lo sviluppo del sistema elettrico per garantirne le funzionalità e quindi diciamo che noi oltre a studiare, simulare e fare attività di sviluppo abbiamo anche la possibilità di validare le tecnologie e gli approcci più innovativi grazie a un approccio di sistema ma dicevo anche potendo utilizzare delle facility realizzando dei progetti pilota o addirittura delle attività in campo cooperando con gli attori e gli operatori di rete ripeto ancora una volta che l'obiettivo delle nostre attività è sempre quello di totale beneficio del sistema elettrico energetico nazionale e anche alla fine di tutto anche degli utenti del sistema se vedete la slide nella quale parlo dei dipartimenti è importante sottolineare che cerchiamo di coprire tutte le attività che riguardano il sistema energetico quindi abbiamo quattro dipartimenti che operano in settori attigui ma ben distinti questi settori comprendono appunto lo studio degli impatti ambientali delle fonti energetiche lo studio e lo sviluppo degli scenari delle transizioni energetiche e anche dei mercati dell'energia abbiamo poi un'attività in un altro dipartimento che riguarda le tecnologie di generazione sia convenzionali da fonti fossili sia ovviamente da fonti rinnovabili con anche un aspetto molto importante legato ai materiali per poi arrivare al nostro dipartimento dove si svolgono le attività di cyber security che invece guardano alle tecnologie di rete le tecnologie mime mature abbiamo aspetti oltre che di cyber anche di ICT quindi Information Communication Technology curiamo aspetti legati alla penetrazione del veicolo elettrico e della mobilità sostenibile nei sistemi abbiamo anche studi avanzati su tecnologie molto innovative e su aspetti anche trasversali del sistema dicevo prima che avevamo tanti laboratori qui vedete qualche immagine di alcuni dei laboratori nei quali operiamo che sono presso la sede di Milano oppure presso quella di Piacenza in basso a destra vedete anche quella che è la testbed nella quale possiamo fare esperimenti di attacchi malevoli utilizzando appunto la testbed di cyber security dei quali i colleghi vi illustreranno molto più in dettaglio nel resto del seminario tutti i risultati delle attività di ricerca di sistema e quindi di RSE sono pubblici quindi a parte quelli che vengono raccolti nei documenti diciamo contrattuali che dobbiamo preparare che sono i rapporti di ricerca di sistema pubblichiamo anche sui nostri risultati o estratti dei nostri risultati su riviste e abbiamo anche delle pubblicazioni proprio di RSE mi viene voglia di citare il dossierse perché è uno strumento agile che ci permette di uscire con delle pubblicazioni su argomenti molto di punte molto attuali c'è stato ovviamente c'è ancora tuttora l'emergenza Covid in questo caso abbiamo emesso quattro dossierse che hanno potuto toccare aspetti molto importanti per esempio abbiamo analizzato l'andamento dei consumi e quindi l'impatto del Covid sui consumi elettrici in aree importanti come quella di Milano e di Brescia abbiamo guardato l'impatto in qualche modo positivo sulla qualità dell'aria e anche l'impatto sulla mobilità appunto legata al fatto del lockdown e delle persone che non lavoravano in smart working da casa invece che di recarsi al lavoro usando i mezzi pubblici o la propria autovettura vengo al tema della giornata e quindi mi permetto di ricordare quali sono a nostro avviso i trend importanti che in qualche modo comportano questa grande e importante e fondamentale trasformazione dei sistemi energetici al mondo non stiamo parlando dell'Italia dell'Europa ma addirittura di quello che succede a livello globale quindi senz'altro decarbonizzazione quindi con i costi sempre più contenuti e la grid parity del fotovoltaico ma anche quello che sta avvenendo con l'energia eolica e ovviamente c'è una forte spinta alla decarbonizzazione del sistema elettrico dalla parte di generazione un altro aspetto molto importante ovviamente che riguarda più da vicino quello che diremo oggi è la digitalizzazione quindi la possibilità di avere un sistema molto più integrato con la possibilità di scambiare informazioni di una grande osservabilità della rete un altro trend è la decentralizzazione quindi dicevo siamo ormai passati da pochi centri di generazione di grande dimensione a milioni di punti di generazione distribuiti sul territorio e quindi con le complessità di gestire questi sistemi la forte spinta verso l'elettrificazione non solo dei settori più vicini a noi ma anche di altri penso al settore dei trasporti degli edifici dell'itin and cooling con le pompe di calore e così via e poi anche l'opportunità da cogliere di avere un sistema sempre più integrato e quindi di avere delle sinergie maggiori tra tutti i vettori energetici la facilità per la quale la digitalizzazione dei sistemi elettrici ormai in stato molto avanzato è anche legata al fatto che nell'ultimo decennio i costi della memoria per immagazzinare i dati dei sensori delle linee di comunicazione di internet sono veramente crollati e questo ovviamente ha permesso l'ampia diffusione che serve perché ovviamente se vogliamo monitorare un sistema complesso dobbiamo avere una rete digitalizzata che permea e che si sovrappone alla struttura e agli asset fisici del sistema elettrico due considerazioni finali la digitalizzazione impatta tutti i settori energetici quindi da quello dei trasporti degli edifici l'industria migliorando i processi migliorando la stabilità delle attività ovviamente anche il settore dell'oil and gas e anche ovviamente il settore elettrico in questa slide ci sono molte parole ma il concetto essenzialmente è veramente semplice la digitalizzazione offre molte opportunità di migliorare rendere più efficienti i processi di avere una osservabilità completa del sistema ma porta con sé anche delle complicazioni dei rischi e questi rischi sono legati al fatto che se il sistema è sempre più connesso se abbiamo necessità di scambiare dati di acquisire dati dal campo che possono essere messi a disposizione degli operatori ovviamente il sistema diventa più aperto diventa più vulnerabile a eventuali attacchi malevoli e questo ovviamente va considerato e vanno prese le opportune contromisure è di questo che si occupano appunto i colleghi che presenteranno nel seguito le attività di cyber security che svolgiamo presso RSA una slide molto semplice ma abbastanza anche chiara che dimostra come il numero di attacchi e anche il numero di gruppi che portano questi attacchi stia via via aumentando quindi se passate negli anni a pochi attacchi a un numero via via maggiore di attacchi a infrastrutture elettere che stiamo parlando non un attacco a un sistema di sicurezza di una banca ma proprio alla centrale di generazione a un impianto nucleare a un sistema di controllo quindi questo ovviamente ci dimostra quanto è urgente mettere in campo tutte le possibili contromisure per rendere questo attacco sempre più improbabile per renderlo sempre più difficile o addirittura evitarlo completamente questo in due parole è quello che vi ricorderanno molto meglio i colleghi di RSA quindi che come nella nostra attività di cyber security partiamo sia dalle tecnologie che dalle piattaforme che dagli standard che sono attualmente a disposizione per poi fare attività di ricerca e sviluppo ricerca e innovazione al fine che queste tecnologie possono essere calate nell'applicazione reale nel settore elettrico e infine validare non solo tramite attacchi simulati sperimentazioni ma anche sperimentalmente tutto quello che è possibile fare al fine di avere una conoscenza molto più approfondita di come l'attacco si sviluppa e come l'attacco può essere previsto o addirittura evitato io mi fermerei qua forse sono stato anche leggermente lungo quindi senz'altro ringrazio tutti per la partecipazione e mi auguro che questo seminario sia di grande interesse per tutti voi e auguro a tutti buon lavoro grazie mille e buona giornata grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille